buongiorno e benvenuti sul canale sfera di luce io sono silvi e con molto piacere vi accompagnerò oggi in una meditazione nel mio giardino il mio giardino come alcuni di voi saprano il mio angolo di pace dove pratichiamo yoga meditazione dove possiamo riconnetterci con la natura e quindi con il nostro io profondo mi invito quindi ad accomodarvi trovare una posizione comoda seduta oppure sdraiata importante che questa posizione sia molto comoda e dove il vostro respiro risulti fluido comodo rilassante aggiustate la posizione fino a quando non sentirete più la voglia di aggiustarvi di muovervi prendete una bella inspirazione un bel inspiro e rilasciate poi ispirando piano piano fuotando i vostri polmoni di nuovo un bel inspiro e ispirate rilasciando ogni tensione ogni preoccupazione della giornata ogni pensiero di nuovo con il vostro tempo ispirate piano piano dal naso e rilasciate e accogliete ogni pensiero negativo ogni parola della giornata e accogliete comunque i pensieri che passano per poterli poi rilasciare alla madre terra che non richiede assolutamente niente in cambio chiudete gli occhi se non lo avete ancora fatto chiudete gli occhi se non lo avete ancora fatto e cercate di entrare dentro di voi e cercate di entrare dentro di voi e di essere in piena coscienza e di essere in piena coscienza ascoltate attentamente i rumori di fondo gli uccellini che cantano che cantano la leggera prezza e soffermatevi a ciò che sentite con il naso anche i profumi della natura soffermatevi anche con il lettatto che cosa sentite sotto le vostre mani forse le vostre mani sono appoggiate sulle vostre ginocchia oppure per terra oppure sul vostro cuore e sentite cosa sentono le vostre dita una sensazione morbida dolce avvolgente e forse un po' di dolcezza che vi attraversa in tutto il corpo sentite anche i punti di appoggio del vostro corpo sul cuscino oppure sulla sedia sul materasso o sul tappeto e che cosa risentite da questi punti di appoggio ciò 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 l'aria che ispirate ed espirate, sentite il sangue che scorre nelle vostre vene, sentite i vostri battiti, i battiti del vostro cuore e poi sentite la vostra pancia che si muove al ritmo del vostro respiro e le spalle che si alzano e si abbassano dolcemente. Forse sentirete anche un leggero pizzicore alle mani, ai piedi. E sentite tutto il vostro corpo rilassarsi, rigenerarsi. Grazie alla Madre Terra, grazie all'aria, grazie alle energie e all'elevazione delle e all'editazione. Rilassate di nuovo. Rilassate di nuovo. E ancora più profondamente tutti i vostri muscoli al ritmo della vostra respirazione. attenzione. Siate coscienti di ogni inspiro e di ogni espiro. e se qualche pensiero arriva nella vostra mente è normale, non giudicate. accoglietelo e poi con un sorriso e tornate piano piano alla meditazione, al vostro corpo, alla vostra energia. Siete qui per rilassarvi, non per giudicare. Siete qui per accogliere il bene e rilasciare tutto ciò di cui non avete più bisogno. Siete qui per accogliere il bene e rilassare tutto ciò di cui non avete più bisogno. Siete qui per accogliere il bene e rilassare tutto ciò di cui non avete più bisogno. Ogni rumore della natura e della vita vi ricollegano a voi stessi. Ogni rumore che forse vi possono disturbare sono qui non per caso ma per riconnettervi alla vostra vera natura. Accoglieteli e ritornate alla meditazione. Ritornate al vostro io profondo. Vi invito adesso a ritornare al vostro corpo fisico. A muovere dolcemente e gentilmente la punta delle dita delle vostre mani e la punta delle dita dei vostri piedi. Piano piano muovete anche la testa a destra e a sinistra. E dipingete un sorriso sul vostro cuore e sul vostro viso. Vi auguro di trascorrere una bellissima e serena giornata. Oppure di lasciare alla nottata il vostro corpo e di trascorrere una bellissima notte. A presto vi invito ad iscrivervi al mio canale e a mettere un like se questo video vi è piaciuto. Ciao! 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 Ciao!